e magari a partire anche delle occasioni di guadagno andiamo al segno del Capricorno per quanto mi riguarda amici del Capricorno questa è una luna ancora molto bella è una luna spensierata è una luna frivola è una luna anche irrazionale per certi versi perché si scontra con Mercurio quindi mente e cuore certe volte non vanno proprio d'accordo non vanno nella stessa direzione voi in questo momento avete bisogno però davvero di dimostrare i vostri sentimenti avete bisogno di circondarvi di affetto, di amore di persone che sappiano anche farvi vivere dei momenti allegri e intensi soprattutto da un punto di vista sentimentale perché è quello che andate cercando in questo momento grazie a questa venere magnifica nel segno della Vergine che mette in evidenza proprio l'amore quello che state cercando in questo periodo e quello che può regalarvi anche momenti veramente molto intensi in questa giornata in cui la comunicazione sarà un po' il segreto di tutto voi potete anche dire liberamente quello che pensate ed esternare un vostro sentimento anche a una persona che avete conosciuto da poco andiamo al segno della cittadina e della cittadina